Max Pexali, ve lo ricordate, il cantante degli 883, si è sposato in segreto il 28 di aprile a Pavia con Deborah, anche lei bresciana. Dice abbiamo protetto il nostro amore, abbiamo tentato di tenere questa immensa felicità stretta tra di noi. Quindi Max Pexali, 52enne, si è sposato con Deborah, 28enne. Questo è il suo secondo matrimonio perché già si era sposato con Martina Marinucci, dalla quale aveva avuto un figlio, Hilo, proprio a Pavia in Villanechi. A sposarli l'ex sindaco Alessandro Cattaneo. Ebbene siamo marito e moglie, scrive su Facebook Deborah Palamatti, 43enne, di Camuna. Avevo sbagliato prima di dire 28enne, 43enne, che ha conosciuto proprio Max a Pavia, come ha raccontato anni fa al Corriere, e fanno coppia dal 2013. Lei liceo classico a Breno, laureata in giurisprudenza a Pavia, una collaborazione con uno studio legale di Milano e molto appassionata di moda. Non gli piace stare sotto i riflettori e per questo hanno tenuto la loro storia segreta. Abbiamo sempre protetto il nostro amore ed abbiamo tentato di tenere questa immensa felicità stretta a noi e alle persone che amiamo per qualche giorno, scrive Deborah sul suo profilo di Facebook.